Quello che succede oggi è qualcosa di differente, stiamo aspettando che ci sia un collegamento con Trastevere e vedremo la predicazione di Trastevere, di una persona che già conosciamo, e questo è un collegamento che abbiamo stabilito qualche tempo fa, questo è il numero zero, il primo esperimento che facciamo, non soltanto per sentire un'altra voce, ma anche per far capire una chiesa più piccola come la nostra, che il progetto di Dio è molto più grande. La chiesa di Trastevere è una chiesa con cui noi abbiamo un grosso rapporto, siamo un po' stati adottati spiritualmente, perché sappiamo che ci sono persone che stanno pregando proprio qui, è una felicità avere questa opportunità, che poi vedremo su che base, quante volte all'anno faremo con questa diretta. Adesso sto vedendo che sta uscendo tutta la scuola domenicale da Trastevere e c'è la pastora che è davanti e per cui tra poco probabilmente ci daranno a presto. Allora vogliamo ringraziare il Signore, a breve ascolteremo la parola del Signore attraverso il fratello Marvin Oxenam, però oggi vogliamo fare anche un saluto particolare, lo sapete che ci sono tante persone che ci seguono tramite internet, fratelli e sorelle da tutto il mondo, alcuni anche dall'America Latina, pensate un po', vecchi membri di chiesa che ogni tanto ci ascoltano e oggi facciamo però un saluto particolare alla chiesa di Montefiascone che si è collegata con noi, credo non so, da qualche domenica e anche oggi sono collegati e anche al pastore di questa comunità che si chiama Marco delle Monache e sua moglie. Voglio al Signore benedirvi insieme a noi, chiamo Marvin a venire qui davanti, vogliamo pregare insieme per ascoltare la parola del Signore. Alziamoci in piedi per favore. Signore nostro, noi ti ringraziamo immensamente perché la Tua parola è vita, la Tua parola cambia le nostre vite. Benedici Marvin questa mattina fa che lui possa parlare per te Signore, che il Tuo Spirito sia su di lui e che noi Signore possiamo mettere in pratica ciò che ascoltiamo. Te lo chiediamo nel nome Tuo Santo. Amen. Buongiorno a tutti e anch'io do i miei saluti a Montefiascone, ciao a Marco e a Janet e chiunque altro è collegato dall'alta provincia di Viterbo e questa mattina noi proseguiamo su una serie di sermoni che stiamo portando avanti da qualche mese, questo è il terzo e quindi chi non è stato con noi nelle volte precedenti potete trovare i sermoni precedenti su YouTube, sul canale della Chiesa penso sul nostro sito, in qualche modo insomma si trovano. Però giusto per farvi un riassunto di dove siamo stati abbiamo iniziato guardando il tema, qual è il tema che stiamo trattando coloro che ci sono? Il tema delle virtù. Abbiamo iniziato un paio di mesi fa guardando all'Epistola dei Romani, al capitolo 6 e abbiamo parlato dell'importanza di mettere insieme il concetto della nostra salvezza con il concetto della virtù cristiana e il fatto che noi siamo salvati non solo per avere una salvezza eterna, un giorno andare in paradiso e tutte queste cose qui, ma uno degli effetti della nostra salvezza è di renderci capaci di essere donne e uomini virtuosi. Il mese scorso poi abbiamo visto da Seconda Pietro al capitolo 1 il testo chiave che parlava di un'addizione, che parlava di aggiungi alla tua fede la virtù e abbiamo parlato in particolare di come questo nel mondo classico nel quale è stato scritto il Nuovo Testamento, la ricerca della virtù era qualche cosa di molto importante per quella cultura, per molte culture in tutto il mondo, in molte epoche e abbiamo visto in particolare ancora una volta come il cristianesimo rende possibile per noi di essere virtuosi. Questa mattina faremo una cosa un po' diversa. Preparatevi perché tra un pochettino vi coinvolgerò e dovrete anche voi fare un pochettino di lavoro, un po' di lavoro di gruppo e quindi questa mattina il sermone sarà un po' interattivo e spero che la cosa funzioni, non l'abbiamo mai sperimentato e quindi sarà una cosa nuova e però anche questo è una virtù di fare le cose nuove. Allora come prima cosa ho pensato utile darvi una definizione della virtù. Ne parliamo da qualche domenica e se qualcuno vi chiedessi ma cos'è la virtù? Dare una definizione semplice che è facile da ricordare non è facile perché il concetto è molto ricco. Però ecco la mia definizione breve che io vi chiederò varie volte durante questo sermone e magari potete anche scriverlo e forse quando andate a casa scrivete sul frigo un post-it con questa definizione o sullo specchio in bagno, insomma dov'è che mettete le cose come screensaver sul cellulare, insomma qualche posto dove potete ricordarvi questa definizione della virtù. Allora ecco la mia definizione. La virtù è l'abitudine al bene. Semplice, sei parole. La virtù è l'abitudine al bene. E chiaramente nella definizione ci sono due parole chiave. Una è la parola bene e l'altra è la parola abitudine. La virtù è un'abitudine al bene. Quindi uno potrebbe cominciare domandandosi ma che cos'è il bene? Immaginate di andare in gelateria. In gelateria vendono il gelato. Però se voi andate lì con il vostro conetto in mano e il gelataio vi chiede, allora signora che cosa vuole? Voi cosa rispondete? Gelato. Il gelataio fa, eh certo è una gelateria questa no? Però cosa vi chiede il gelataio? Che gusti vorrebbe signora sul suo cono? Che tipo di gelato vorrebbe? La virtù, il bene, è un po' come il gelato. E' una cosa, diciamo, è un insieme di tante cose diverse. Ci sono tanti diversi gusti di bene e di virtù. E questa mattina nel lavoro che farete in piccoli gruppi vedremo alcuni di questi gusti in particolare. Che cosa sono questi gusti di virtù, questi gusti di bene? E adesso ci arriviamo tra un attimo. La virtù, quindi, è un'abitudine al bene, è una abitudine. Ora le abitudini possono essere cose buone, possono essere cose cattive. In particolare la virtù è un'abitudine al bene, quindi è un'abitudine a fare cose buone. L'abitudine è ciò che, come possiamo dire, sono le cose che ti vengono senza pensare. Per esempio, chi di voi ha la patente da più di dieci anni? Voi quando guidate, ci pensate a mettere la frizione prima di inserire le marce? È un'abitudine. È una cosa che si fa naturalmente. Però le prime volte che vi guidavate, dovevate proprio concentrarvi, pedale, frizione, cambio, era un po' complicato. Però furia di fare certe cose, viene come un'abitudine. Oppure ai musicisti, abbiamo alcuni musicisti che suonano la chitarra, quando voi dovete fare il giro di re, re, sol, la, ci pensate che dovete mettere le mani così, poi così e poi così? Non stateli a pensare come devo mettere le dita per fare l'accordo del re. Perché lo fate talmente tante volte che è un'abitudine, che viene naturale. E così è la virtù. La virtù è un'abitudine al bene. Sono delle cose buone che noi siamo, che ci rendono persone che fanno quelle cose in modo naturale. E quando le fai, ti senti bene dentro perché sei proprio tu. Fai quella cosa perché tu sei quel tipo di persona. Vi faccio un esempio, forse ve l'ho fatto in passato, ma a me aiuta particolarmente questo esempio. È l'esempio della virtù dell'ordine. Perché l'ordine è una virtù. E tra l'altro è la virtù sulla quale io ho lavorato personalmente, in particolare questa settimana. E poi vi spiegherò personalmente io come faccio. La virtù dell'ordine è un'abitudine di tenere le proprie cose ordinate. Ogni cosa al suo posto, ogni azione nel momento giusto. Se tu sei una persona che ha sviluppato la virtù dell'ordine e quando entri in una stanza disordinata, che tipo di emozione provi? Mamme. Secondo me le mamme hanno avuto la virtù dell'ordine e tutti i figli non ce l'hanno. Quando una persona con la virtù che ha l'abitudine all'ordine, a mettere tutte le sue cose nello stesso posto, poi si trova in una situazione di disordine, c'è un disagio emotivo dentro, ti senti male dentro. Fin quando non hai messo ordine e poi quello che tu sei trova un riflesso nel mondo intorno a te. E così potremmo dire di tante altre virtù, della virtù della giustizia, del coraggio, della pazienza e così via. Quindi la virtù è un'abitudine al bene. Aristotele diceva una rondine non fa primavera. E noi questo proverbio lo citiamo spesso, ma lo sapete di cosa stava parlando? Stava parlando delle virtù. E Aristotele diceva il fatto che tu fai una buona azione una volta non rende il tuo carattere virtuoso. Devi ripeterla tante volte fin quando non diventa un'abitudine. E poi viene la primavera. Grazie a Dio è vero anche il contrario. Che se tu sei una persona virtuosa e qualche volta sbagli, non significa che hai perso la virtù. Significa che hai sbagliato ma il tuo carattere rimane quello che è. Ora, come facciamo a essere virtuosi? Quindi questa è la mia piccola definizione. La virtù è, la sapete? Un'abitudine al bene. La virtù è un'abitudine al bene. Allora, come facciamo a essere virtuosi? Ci sono moltissime cose da dire qua e questa mattina voglio soffermarmi solo su tre. La prima è la nostra fede in Gesù. E questo l'abbiamo visto nei due sermoni precedenti. La nostra fede in Gesù ci dona sia la motivazione sia la potenza di essere persone virtuose. Il suo spirito ci ha dato questa capacità. Non ripeto perché sono due sermoni interi su questo, però il primo punto, come figli e figlie di Dio, noi possiamo essere virtuosi grazie all'opera di Dio nella nostra vita. Seconda cosa, noi possiamo passare un po' l'acqua, questa è un po' qualcuno già a buttire una moglie magari. La seconda cosa da fare per essere virtuosi è di semplicemente sapere che cosa sono le virtù e cosa sono i vizi. Quindi avere nella tua mente un'idea di ciò che è virtù e di ciò che è vizio. Grazie. Quindi c'è un'educazione proprio che avviene nell'usare certe parole. Tornando all'esempio del gelataio. Cosa desidera il signore? Quello. No, quello c'ha un nome, si chiama cioccolata. Vorrei quell'altro verde. No, quello si chiama pistacchio. E il pistacchio ha un certo gusto, infatti in un certo modo corrisponde a qualche cosa di ben preciso. E così se noi vogliamo essere virtuosi, dobbiamo avere queste parole di virtù che noi sappiamo che cosa sono, sappiamo a cosa corrispondono. E questa mattina ne vedremo alcune. E poi dobbiamo imparare a usare queste parole. E io ho letto un bellissimo articolo che parlava del fatto che a volte noi non usiamo un linguaggio di virtù e di vizio perché ci sembra che queste sono parole troppo grosse, che ci stiamo riempendo la bocca di paroloni mentre la nostra vita è semplice, non è fatta di queste grandi cose. Allora, per esempio, la parola coraggio. È una delle virtù. È una delle quattro virtù cardinali. Il coraggio, qual è la scena che voi vi immaginate quando si dice coraggio? Quando è che ci vuole coraggio? La prima cosa che vi viene in mente? Il principe azzurro che combatte un dragone, no? Oppure Troi con i suoi 300, no? Che combattono, no? Da veri spartani. Ci immaginiamo queste grandi situazioni dove dice, beh, ci vuole coraggio quando la situazione veramente è grande, allora ci vuole coraggio. Però ci vuole coraggio anche di spostarsi la notte per Roma per andare a visitare un fratello o una sorella malata. Perché magari c'è una certa paura di viaggiare di soli di notte e il coraggio è proprio vincere le proprie paure per fare le cose giuste. E lì è opportuno usare la parola coraggio, anche se l'azione sembra piccola e insignificante, però usare la parola grossa per descrivere le situazioni piccole della nostra vita. Oppure vai a visitare quella zia noiosa, ma è proprio no, cioè ti metti lì accanto alla zietta, quella attacca, chiacchierà, ti racconta la guerra, ti racconta il marito, ti racconta come cucina pasta e fagioli, e dice sempre le stesse cose, no? Perché è anziana, dice sempre le stesse cose. E tu c'hai 17 anni, andare a trovare la zia noiosa e dice ma proprio no, no? Però tu vuoi essere una persona virtuosa e allora usi la virtù della benevolenza. La benevolenza che è fare il bene all'altre persone più di quello che si meritano. Ed è una parola grossa, però da usare per una situazione piccola. Oppure sei al pub, sei andato al pub con gli amici, state bevendo, hai già bevuto due birre, e dico ragazzi dai facciamo un terzo giro di birra. E tu già senti l'effetto della prima e la seconda già senti un pochettino che è arrivata dove devi arrivare. Tu se vuoi essere una persona virtuosa, lì eserciti la virtù della temperanza. Che è un'altra parola grossa, ma significa semplicemente l'autocontrollo. Dove tu dici due sono sufficienti, la terza no. Oppure sei sull'autobus e c'è la signora anziana, gli lasci il posto. Quella è la virtù della civiltà. E così via. Potremmo andare avanti. Però il mio punto è che per essere persone virtuosi è molto importante saper usare le parole giuste per descrivere le situazioni della nostra vita. E anche parlando gli uni con gli altri possiamo aiutarci a usare proprio le parole, un linguaggio di virtù. Il terzo punto è un po' il punto principale di questa mattina. Il mio terzo suggerimento per essere donne e uomini virtuosi è di imitare gli altri. Noi possiamo trovare una profonda ispirazione nel guardare altre persone che sono virtuose. Possiamo essere motivati alla parola italiana è l'emulazione. Ossia guardare e ripetere. La scimmia vede, la scimmia fa. I greci la chiamavano la mimesis dal quale abbiamo la parola italiano fare il mimo che significa ripetere, fare quello che qualcun altro fa. E questo è un meccanismo potentissimo per ognuno di noi per renderci persone più virtuose. di guardare a esempi che ci ispirano, che ci fanno vedere che cos'è la virtù nella vita vera. È vero anche il contrario, che vediamo anche persone viziate, che hanno vizi e noi guardiamo quelle e diciamo io non voglio essere così, io voglio essere colì. Quindi noi cresciamo in virtù guardando le persone intorno a noi. Persone sia vive che persone morte che persone finte. Adesso descrivo. Pensa a una persona viva che ha avuto un'influenza sul tuo carattere. Pensaci un attimo. Chi è una persona che dici quello o quella è stato un esempio per me? Pensato? Non dovete dirlo. Giusto? Pensato. Sicuramente i genitori sono i primi. Che ci piaccia o no, noi siamo la prima fonte di imitazione dei nostri figli e noi che siamo grandi molte delle cose che noi siamo stiamo imitando i nostri genitori purtroppo sia nei vizi che nelle virtù. Però ci sono anche quindi oltre le persone vive quindi anche in chiesa noi siamo tutti un esempio gli uni per gli altri. Insegnanti specialmente voi insegnanti insegnanti della scuola dominicale che adesso non ci sono hanno un ruolo fondamentale oltre che a insegnare i bambini a essere proprio un esempio di virtù per i bambini. Però ho anche le storie storie di persone finte. Questo è un libro bellissimo si chiama The Book of Virtues il libro delle virtù e questo è semplicemente una raccolta di piccole storie che sono storie di virtù. Ve ne leggo una che senz'altro conoscete. C'era una volta un contadinello che teneva il suo greggio a poca distanza dal villaggio. Una volta lui pensò di fare uno scherzo agli abitanti del villaggio e di divertirsi alle loro spalle e così corse verso il villaggio dicendo al lupo al lupo venite aiutare ci sono i lupi tra le mie pecorelle. Gli abitanti del villaggio molto gentilmente lasciarono il loro lavoro corsero al campo per aiutarlo ma quando arrivarono lì il bambino si mise a ridere e disse era uno scherzo non c'è nessun lupo. Qualche giorno dopo il bambino decise di fare di nuovo lo stesso scherzo e di nuovo gli abitanti del villaggio corsero in suo aiuto e di nuovo lui li prese in giro. Poi un giorno un lupo venne veramente e cominciò veramente a uccidere le pecorelle del ragazzo. In grande timore lui corse al villaggio e gridò al lupo al lupo c'è un lupo nel mio gregge aiuto. Gli abitanti del villaggio lo udirono ma pensarono che si trattasse di nuovo di un trucco e nessuno gli dette attenzione nessuno andò ad aiutare e il pastore perse tutte le sue pecore. questa è il tipo di cosa che succede alle persone che non sono veritiere anche quando dicono la verità nessuno le crede. Chi aveva sentito questa favola? Famosissima famosissima è una delle favole di Esopo più famose però è una storia una storia finta in questo caso che però noi quando sentiamo questa storia voi volete essere come quel ragazzo? Ma proprio no c'è c'è un'imitazione negativa in questo caso voi dite dentro io voglio essere il tipo di persona che è veritiera che dice la verità che è sincera che è onesta che quando dice una cosa quella è io voglio essere quel tipo di persona non come il ragazzo che poi ha avuto chiaramente dei problemi e vedete quanto sono potenti le storie nell'aiutarci a capire la virtù e a voler essere virtuose molte delle favole molte delle storie che noi raccontiamo hanno questi modelli da imitare sia per i bambini sia per gli adulti le favole antiche classiche come l'Iliade che abbiamo studiato a scuola magari anche odiato le favole un po' più contemporanee come Pinocchio o le favole che adesso vediamo in televisione al cinema come il signore degli anelli e quando noi vediamo queste storie quando io leggo l'Iliade io voglio essere fedele come Ettore quando io leggo Pinocchio io voglio essere generoso come Geppetto quando io guardo il signore degli anelli io voglio essere il tipo di amico che era Samua Esgamji che alla fine porta Frodo in braccio fino alla fine e di contro leggo le stesse storie e io trovo orrore di fronte a essere crudele e falso come Agamennone dico ma per carità io non voglio mai essere così non voglio essere bugiardo come Pinocchio che mi cresce il naso o non voglio essere accecato dal potere come era Boromir nel Signore degli anelli e così via abbiamo queste storie che ci ispirano a essere virtuosi e a evitare il vizio questo tra l'altro succede molte volte che andiamo al cinema o adesso che guardiamo Netflix o comunque guardiamo le nostre serie molti di queste storie che noi vediamo al cinema possono essere un'ispirazione tutti vogliamo essere impavidi come il Capitano America giusti come Schindler in Schindler's List leggiamo le cronache di Narnia e non vogliamo essere attaccati al piacere come Edmund oppure guardiamo il telegiornale e tutti vogliamo essere quel giovane cinese in piazza a Tiananmen davanti ai carri armati a resistere all'ingiustizia e vedete la nostra vita è piena di storie di vizio e di virtù che ci aiutano a voler essere e a essere il tipo di persona che siamo e parentesi genitori se avete figli piccoli la cosa migliore che potete fare per loro è leggergli le storie leggete le storie non le lasciate col tablet non le lasciate con lo schermo leggete le storie e tra parentesi fatevi vedere con dei libri fisici in mano dai vostri figli perché loro i metteranno voi se loro vedono che voi amate i libri anche grossi così loro saranno invogliati anche loro ad amare i libri dove tante di queste storie sono contenute allora non abbiamo ancora aperto la Bibbia dove c'entra la Bibbia in tutto ciò se siamo sinceri a volte noi fatichiamo un pochino a leggere la Bibbia se siamo proprio sinceri prendi la Bibbia inizi inizia pagina 1 genesi 1 2 3 poi vai avanti finisce genesi poi comincia esodo poi arrivi al lividico sai bene che fa e poi comincia a leggere di questi profeti Ezechiele Sofonia questi nomi impronunciabili cioè non sempre sappiamo bene come leggere la Bibbia io vorrei darvi questa mattina un modo di leggere la Bibbia ci sono tanti uno molto semplice ma molto utile che è di leggere la Bibbia per cercare le storie quindi magari nella tua lettura della Bibbia quest'anno che io mi auguro che ognuno regolarmente legga la Bibbia non andate a leggere tutto quello che c'è scritto cercate soltanto le storie e se trovate un pezzo che non è una storia saltatelo e andate a trovare un'altra storia e nel leggere le storie cercate di pensare qual è la virtù o qual è il vizio di cui questa storia mi sta parlando quindi in qualche modo voi leggete la Bibbia cercando gli eroi e cercando gli anti-eroi perché di fondo la Bibbia è diversa è diversa dal Corano il Corano è un insieme di regole di precetti di cose che bisogna fare la Bibbia fondamentalmente è una raccolta di storie sono tantissime storie tantissimi personaggi nella Bibbia quindi quello che adesso faremo io ho qui dei bigliettini se qualcuno può venire da sopra perché ho i bigliettini anche per voi sopra perché adesso tocca a voi allora io qui ho dei bigliettini ho otto bigliettini quindi anche a Montefiascone organizzatevi qui ho otto bigliettini con i nomi di otto virtù che darò a questa parte della chiesa una virtù per panca penso che sono otto panchi se ho contato bene qui su questi bigliettini qua io ho otto storie della Bibbia e darò una storia per panca ok allora quello che dovete fare voi ho cercato di trovare storie che più o meno conosciamo c'è il versetto biblico dove c'è la storia se volete andare a rinfrescare la memoria ma avrete solo 3-4 minuti quindi non c'è tanto tempo quello che voi dovete fare con la storia è semplicemente ripassare la storia nelle 4 persone sulla panca che siete e cercate di pensare qual è la virtù o il vizio principale di questa storia ok sì complicato no semplice quello che dovete fare invece voi altri con la lista delle virtù e alcuni sono i vizi voi dovete pensare cosa vuol dire questa virtù o questo vizio come si vede questa virtù o questo vizio e riesco a pensare a qualche esempio di virtù o vizio chiaro ok non so quale dei due più facili quindi vi darò 3-4 minuti per fare questo poi avete mai giocato l'associazione ogni virtù o vizio di qua corrisponde a una storia di qua e vi darò 5 minuti per trovarvi quindi ogni panca dovrà eleggere qualcuno che poi girerà fisicamente per la sala cercando la virtù o il vizio che corrisponde alla storia ok quindi ci sarà un po' di confusione però cercheremo di associare quando abbiamo finito poi le vedremo insieme va bene è chiaro allora se potete gentilmente allora una storia per panca ok quindi giratevi alle persone sulla panca con voi e a partire da adesso avete 4 minuti e se potete scendere da sopra Innocenzo ho anche per voi sopra e a Montefiascone fate la stessa cosa 4 minuti scusate grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 ancora un minuto allora ogni gruppo nomini una persona che gira per la stanza allora pronti via allora cercate di associare la storia con la virtù via e quando l'avete associata venite avanti con i due bigliettini ancora trenta secondi grazie. dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno ok tempo scaduto tre su otto mica male allora allora se ci vogliamo riaccomodare adesso riconquistare la sala la vedo dura allora ripetete con me la definizione la virtù è la virtù è l'abitudine al bene ok l'ordine è anche una virtù quindi adesso sedete allora allora ho dieci storie e dieci virtù me ne sono arrivate tre associate se non l'avete fatto non fa niente non si perde niente e adesso semplicemente le associeremo insieme così arricchiremo il nostro vocabolario di virtù con dieci virtù che andremo a descrivere con queste dieci storie e poi avremo finito per questa mattina allora la prima storia la prima virtù era la virtù della modestia chi aveva la virtù della modestia ok allora che cos'è la modestia secondo voi la molto bello quindi è simile all'umiltà la modestia una bella definizione è di saper portare le nostre abilità e i nostri successi senza orgoglio e senza spirito di ostentazione parolona questa alla fine però la modestia non è dire ah ma io non so fare niente la modestia è dire no io so fare delle cose io ho avuto dei successi nella mia vita però sapere portare quelle cose senza orgoglio senza dare fastidio eh c'è qualcuno di voi è stato a Napoli alla cappella di Santa Severo ha visto le statue il Cristo velato che Cristo velato è circondato da da dieci statue di virtù una delle virtù è proprio la modestia e il guerino ha interpretato in un modo bellissimo la modestia praticamente è una donna bellissima ma completamente velata e quindi è proprio l'idea che c'è della bellezza c'è dell'abilità c'è della capacità sotto però è velata non è non è ostentata con con orgoglio ricordo un po' quel proverbio che dice altri ti lodino non la tua bocca eh quindi se qualcun altro ti loda bene ma a Roma diciamo chi si loda si sbroda allora qual è la storia che più si avvicina alla modestia questa non era facile eh ammetto era una storia un po' secondaria forse non la conoscevate qualcuno pensa di avere la storia della modestia? ok era la storia di Mardokeo chi aveva la storia di Mardokeo? ok allora Mardokeo è nel libro di Esther potete andare a leggere e lui era lo zio di questa regina e praticamente lui ha fatto tutta una serie di cose molto importanti per il re però non era mai stato riconosciuto ad un certo punto il re fa dice ma questo Mardokeo per tutte le cose belle che ha fatto ma non l'abbiamo mai riconosciuto? e così l'ha preso l'ha fatto cavalcare le ha dato gloria eccetera eccetera poi è tutta una storia complicata però Mardokeo è proprio una storia di modestia lui aveva fatto delle cose molto aveva addirittura salvato la vita del re però nessuno lo sapeva non si era messo in mostra no? andare su Youtube su Twitter su cosa oh io ho salvato la vita del re quanti like mi date? no era stato modesto seconda virtù la castità chi aveva la castità? ok la castità allora secondo voi che cos'è la castità? aspetta questa è la storia aspetta 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 la storia ci arriviamo che cos'è la castità prima? la? l'astinenza allora la castità in particolare ha a che fare con la sessualità e anche se a volte la castità è usata specialmente in ambito cattolico per l'astinenza assoluta quindi diciamo il prete diciamo fa voto di castità quindi di non avere mai rapporti sessuali il termine è più ampio e significa l'astinenza da rapporti sessuali inappropriati quindi non è l'astinenza totale dalla sessualità ma dalla sessualità che è fuori luogo che non ha che è fuori dal suo contesto naturale che è quello del matrimonio ok? allora non è astinenza assoluta è la temperanza nel gestire la propria sessualità allora qual è la storia? già c'è anticipato l'avevate trovata la storia? ok la storia è la storia di chi ce l'aveva di qua? Potifar e di Giuseppe scusate è di Giuseppe ok? quindi la storia di Giuseppe è una storia diciamo carina un po' triste lui era lì era a casa di questo Potifar a un certo punto la moglie di Potifar dicevo questo è bello quasi quasi no? allora lo va giorno dopo giorno e dicevo viene a letto con me viene a letto con me viene a letto con me e Giuseppe che cosa fa? è casto è una storia è un esempio per noi che anche se la moglie di Potifar il testo non dice sarà bella sarà brutta però era disponibile e Giuseppe dice no no e no e alla fine lui deve fuggire fisicamente via lei acchiappa il vestito glielo strappa ma lui proprio scappa fisicamente via a volte il modo di esercitare la virtù della castità è proprio uno spostamento fisico proprio di fare qualcosa col tuo corpo lo porti da un'altra parte fai fare ai tuoi occhi qualche altra cosa vai in una stanza diversa vai non andare in quell'appartamento ma vai piuttosto da un'altra parte quindi storia bellissima di castità nell'esempio di Giuseppe che resiste alla moglie di Potifar terza virtù la magnanimità chi ce l'aveva? voi? ok allora la magnanimità lo dico subito non è Alberto Sordi che si mangia gli spaghetti no è un'altra cosa che cos'è la magnanimità? ok avete cercato su Google vero? grazie sì giusto la magnanimità è una nobiltà d'animo e di azione di fare più bene alle persone di quello che si meritano è la zietta noiosa dove tu sei magnanime come nipote nello stare lì e ascoltare per la sesta volta la sua storia ok? quindi è fare il bene a una persona anche se non si merita quel bene tu sei magnanime e ne fai di più di quello che la persona merita qual è la storia che illustra la magnanimità non l'avete trovata? non l'avete associata? allora chi aveva la storia di Gesù che parla a Tommaso? ok quella storia di Gesù che parla a Tommaso praticamente ricordate Tommaso dubitava ah se io non tocco io non vedo io non credo Gesù appare a Tommaso e che cosa fa? è magnanime perché Gesù poteva benissimo dire a Tommaso Tommaso ma è stai scherzando? cioè mi devi toccare guarda gli altri hanno avuto fede senza toccare guarda che cioè non va bene questa cosa adesso ti faccio la predica adesso ti metto sotto disciplina adesso qua e là perché tu non devi invece Gesù è magnanime fa più bene a Tommaso di quello che Tommaso meritava meritava un rimprovero e Gesù invece apre il costato lui mette la mano dentro tra l'altro ferita aperta non è proprio una cosa senza dolore quindi Gesù soffre anche per la sua magnanimità verso Tommaso andiamo avanti la quarta virtù è la virtù dell'amicizia chi aveva la virtù dell'amicizia? voi ok? che cos'è l'amicizia? ah bellissimo ok l'insieme è l'espressione dell'insieme di tutte le virtù ci sono alcune virtù che sono un po' così anche l'amore non l'ho messo ma l'amore è anche un po' così ci stanno tutte in particolare l'amicizia io ho trovato una definizione bellissima che dava Aristotele lui diceva che l'amicizia è possibile solo dove c'è il bene cioè l'amicizia cioè l'unica cosa che lega due esseri umani insieme è il bene la virtù possiamo essere legati dall'affetto possiamo essere legati da un senso di utilità dell'altra persona ma quello che rende un'amicizia profonda e solida è condividere il bene quindi condividere delle virtù che si sovrappongono io sono come te e quindi è quel bene che lega profondamente le persone per quello una delle ricette più straordinarie per un matrimonio che duri perché il matrimonio è un'amicizia è che sia marito che moglie siano virtuosi che abbiano l'abitudine al bene perché in quanto voi siete virtuosi la vostra amicizia sarà forte storia sì esattamente la storia di Jonathan la storia di Jonathan di Davide bellissima classica storia però notate cos'è che lega Jonathan a Davide era la virtù del coraggio perché Jonathan nelle storie precedenti di questo capitolo aveva dimostrato coraggio di andare a combattere contro i filisteico con poche persone eccetera era stato molto coraggioso Davide aveva appena combattuto Golia da solo contro Golia dice allora l'animo di Jonathan si legò a Davide in un'amicizia profonda perché c'era il bene questa virtù in particolare che li ha accomunati l'avarizia chi aveva l'avarizia ok allora che cos'è l'avarizia bellissimo ok quindi in questo caso qui abbiamo un vizio non è più una virtù è il vizio è ben detto l'opposto la virtù dell'avarizia è la virtù della generosità quindi l'avarizia in particolare ha a che fare col danaro con le cose materiali col volerle per se stesso piuttosto che voler darle agli altri la storia era Akan la storia di Akan che c'era quel bottino vietato e lui vide quell'oro vide quelle cose eccetera le prende le nasconde nella sua tenda non c'è nulla di sbagliato nell'avere le cose quello che è sbagliato è amare le cose la Bibbia dice che l'amore del danaro è la radice di ogni male non dice il danaro è la radice di ogni male l'amore del danaro prendere e volere tenere per te quello che non ti spetta quello che è più di quello che ti spetta quello è il male e nella storia di Akan poi c'è stata una conseguenza tra l'altro terribile allora ce ne sono rimaste quattro l'ho detto il vizio della pigrizia chi ce l'aveva in fondo cos'è la pigrizia bellissimo quindi è proprio la mancanza ma magari c'hai pure voglia però proprio non c'hai voglia no cioè proprio non era si parla anche del vizio capitale dell'accidia che è proprio quella mancanza di passione quella cioè ma che fatica ma perché devo fare questa cosa no e quante volte questo vizio della pigrizia è lì non c'è non c'è diligenza non siamo zelanti nel fare le cose che dovremmo che dovremmo fare nelle piccole e nelle grandi cose qual era la storia questa non era facile siete riusciti a trovare una storia eh troppo troppa pigrizia nessuno si voleva alzare dalla panca a girare benissimo grazie allora voi siete la nostra storia di questo la storia era la storia di Eli che aveva Eli ok Eli in particolare nell'educazione dei suoi figli perché il signore condanna il vecchio Eli dice i tuoi figli facevano del male e tu non hai fatto niente e c'è stata una punizione severa su Eli sui figli e su tutto su tutto Israele a causa di questa questo padre che era troppo pigro di educare i suoi figli e noi che abbiamo cresciuto i figli crescere i figli inizia con la F e finisce con Atica è fatica è fatica figli siate buoni con noi ogni tanto è fatica quando noi ve lo diciamo una volta poi due volte poi tre volte alla quinta volta ci abbiamo voglia vabbè fa come ti pare no e Eli aveva fatto così fai come ti pare e quindi per la sua pigrizia ci sono state conseguenze terribili virtù della giustizia qualcuno ce l'aveva qui allora questa è andata al piano di sopra allora ve la dico io la virtù della giustizia è desiderare che le cose siano fatte nel modo ideale ed equo tra le persone quindi tu vuoi essere giusto e la storia di questo era Gesù che paga le tasse quindi abbiamo Gesù che ci dà questo esempio di giustizia di pagare ciò che era giusto nelle sue tasse la curiosità chi aveva la curiosità voi altri ok cos'è la virtù della curiosità questa anche non era facile e la ricerca della conoscenza è del nuovo molto bello a volte noi pensiamo che la curiosità è solo sai voglio pettegolare so curioso la vediamo qua può essere anche un vizio però nel senso buono la curiosità è voler sapere e sapere di non sapere ed essere curioso di oh mazza quel bel libro grosso chissà che ci sta dentro quasi quasi me lo compro e me lo leggo è una delle virtù intellettuali perché ci sono anche virtù intellettuali voler sapere ciò che non si sa essere aperti a cose nuove la storia Nicodemo chi aveva Nicodemo? voi quindi era proprio la panca proprio pigrizia proprio in piena precisa Nicodemo va di notte a Gesù e fa delle domande ma tu sei maestro ma come fai a nascere di nuovo ma io questa cosa non l'ho capita anche se lui era un dottorato era un personaggio importante era un intellettuale però aveva questa virtù dell'apertura questa virtù della curiosità che ha coltivato ok tre ce ne sono rimaste chi aveva la prudenza cosa è la prudenza? questa non è facile ok fare attenzione a non esagerare ok in particolare è è saper capire come cosa fare in quale situazione della vita questa è la prudenza è tradotto anche saggezza cioè di sapere quando c'è una situazione vi ricordate quel brano in ecclesiastra c'è un tempo per ogni cosa? c'è un tempo per nascere un tempo per morire un tempo per seminare un tempo per accogliere un tempo per ridere un tempo per piangere e noi come facciamo a sapere quale di queste cose dobbiamo fare in quale momento della nostra vita? è la virtù della prudenza che ci orienta e ci dice questo è il momento per piangere questo è il momento per ridere questo è il momento del coraggio questo è il momento della pazienza e la prudenza ci aiuta a navigare tra le virtù e sapere che cosa fare la storia era Gesù e il digiuno chi ce lo aveva? ok quindi anche lì la panca era proprio vicina Gesù dice questo non è il tempo di digiunare dice poi verrà il tempo per digiunare ma questo non è il tempo quindi c'era proprio la prudenza di capire c'è un momento per delle cose e poi altri momenti in cui le cose non vanno bene l'invidia penso che è andata su l'invidia l'invidia è volere essere violenti verso gli altri perché vogliamo le cose loro e qui la storia era Erode che fa uccidere i neonati di Bethlehem una storia chiara era invidioso del suo potere lo voleva tenere e quindi lo ha portato alla violenza e l'ultima era la virtù della costanza questo so che era in costanza allora che cosa è la costanza? fare qualcosa più volte fare qualcosa più volte bellissima sul frigorifero mettete pure questo la costanza è fare qualcosa più volte la costanza è una di quelle virtù fondamentali perché è la costanza che trasforma le rondini in primavera è la costanza che ti fa ripetere il bene per farlo diventare un'abitudine perché la virtù è un'abitudine al bene è la costanza è quella virtù che ci rende costanti che trasforma una buona azione virtuosa in un carattere virtuoso la costanza è ciò che ci tiene sul sentiero della virtù e l'esempio di questo era Paolo che aveva Paolo che corre la corsa ok quindi Paolo dice io corro la corsa con costanza fino alla fine non smetto a metà arrivo fino in fondo quindi questo è il messaggio di questa mattina la virtù è l'abitudine al bene leggiamo la Bibbia cercando che cosa cercando delle storie di vizio e di virtù potreste anche tenere un quadernino no? per il prossimo anno due leggete la Bibbia e tenete un quadernino dove semplicemente scrivete la storia e sottoscrivete io voglio essere come Giuseppe non voglio essere come Acan voglio essere come così quindi permettiamo che queste storie ci ispirino modellino il nostro carattere e concludo con l'applicazione che in questo caso è proprio una app io vi ho detto che io sto usando qualcosa personalmente per aiutarmi a essere costante nelle virtù c'è un'app che si chiama Ben's Virtues le virtù di Ben adesso ve la faccio scaricare è un'app gratis è scritto in inglese però c'è scritto poco quindi potete benissimo con Google Traduttore tradurre praticamente si ispira alla storia vera di Benjamin Franklin statista americano che lui voleva lavorare su se stesso sulle virtù e quindi durante un viaggio molto lungo in nave lui si creò una tabella e scrisse da un lato tutta una serie di virtù che lui voleva ricordare per se stesso e poi ogni giorno della settimana lui quando finiva quindi ogni settimana aveva una virtù in particolare sulla quale lavorava e ogni giorno se lui era riuscito a mantenere quella virtù lasciava la scatolina in bianco se invece era venuto meno in quella virtù metteva un puntino e così a fine anno lui aveva questa tabella con tutte le virtù e la sua ambizione era avere meno puntini possibile e l'anno dopo forse di migliorare ancora quest'app quando vi iscrivetevi sceglierà una virtù io in questa settimana sto lavorando sulla virtù dell'essere risoluti ossia a fare le cose che devo fare senza venir meno e vacillare quindi essere risoluto questa è la virtù della mia settimana e ogni sera mi ricorda Marvin sei stato risoluto oggi e io devo semplicemente o mettere col ditino un puntino oppure no e se non lo metto significa mi sono piaciuto Gesù ha lavorato in me mi ha aiutato a essere virtuoso come sarei voluto se metto il puntino mi ricordo domani devo far meglio quindi scaricate quest'app Ben's Virtues se non la trovate nell'app store penso c'è anche su Android forse e usatela per voi stessi magari fatelo anche come famiglia come coppia anche ogni tanto fatela vedere a qualcun altro dice guarda sono una frana completa ho bisogno di preghiere oppure in effetti sono incoraggiato guarda sto riuscendo ok quindi grazie Signor Ci Benedica e siamo abituati al bene grazie un messaggio penso che il fatto di avere virtù nelle nostre vite è fondamentale per cui lavoriamo sulle nostre virtù le persone ci guarderanno come credenti anche tramite le virtù che possiamo sviluppare per cui finiamo pregando Signore ti vogliamo ringraziare del messaggio che c'era oggi grazie del contributo che abbiamo avuto tramite Marmine tramite la chiesa di di Trastella di Via della Mugareta tu che hai ascoltato le parole di Marmine oggi sei stata colpita da qualche cosa prega assieme a me queste cose nel tuo cuore Signore voglio lavorare sulle mie virtù voglio scoprire le storie nella Bibbia che mi che mi spino le cose da fare la l'attitudine al bene che voglio dimostrare nella mia vita fammi essere costante fammi essere risoluta fammi essere tutte le cose che tu vuoi che io dimostri agli altri perché altri possano capire che tramite te possono veramente avere un'attitudine al bene queste cose le prego sono non signora Gesù Amen Grazie